Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta belle trovate nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un nuovo dungeon crawler, nuovo, è già uscito da un po' di tempo, è preciso nuovo perché è la prima volta che lo tratto sul canale, e parliamo di Dungeon Saga, gioco della Mantic e portato in Italia dalle MS Edizioni. Le due scatole davanti che le vedete leggermente usurate perché qualche giorno fa le ho comprate, usate da un ragazzo di Pisa tramite il market di Facebook, insomma Facebook, annunci, una cosa del genere, il market interno, ed era un gioco che da subito mi aveva incuriosito da morire da quando lo vedi sul sito appunto delle MS Edizioni, che trovate come link in descrizione, primo link per acquistarlo ovviamente, quindi direttamente dal sito delle MS, e cercavo, io ve l'ho sempre detto e ormai mi sono venuto a noia da solo, cercavo il gioco più vicino possibile ad HeroQuest, sia come regolamento, però vabbè regolamento forse HeroQuest è un gioco un po' troppo vecchiotto, più che altro come componentistica, e per ora i due che ci sono avvisionati di più sono Descent, come componentistica, miniatura e tutto, e Sword and Sorcery, però questo fa il passo avanti perché all'interno ci sono anche elementi scenografici, che ne so, scrigni, scranni, librerie, rastrellere delle armi, LG e molto altro ancora, e anche le miniature ricordano molto, poi ve le faccio vedere dopo, la classica qui, morte con la falce, è chiaramente il non morto di HeroQuest, e anche le meccaniche del gioco come tipo di regolamento, combattimenti, azioni e quant'altro, lo ricordano molto per quanto questa qualcosina è più, ora che vi faccio sperare, comunque, è un gioco da 2 a 5 giocatori, da i 30-120 minuti, sì, più o meno quello che c'è sito sulla scatola torna, ed è un gioco che, vedete qui davanti, il gioco di base, la missione del re dei nani, e di qua il compendio, o compendio, io lo chiamo il compendio, o magari sbaglio, dell'avventuriero, che è un'espansione del gioco che non inserisce tile, non inserisce miniature, però inserisce un manuale da 60 pagine che ve lo trasforma in un GDR a tutti gli effetti, potete crearvi avventure, potete crearvi personaggi, potete crearvi mappe, figata? C'avete delle miniature fantasy in casa? Qualsiasi tipo di miniatura fantasy, ovvio, dimensioni dai 28 ai 35 mm, non miniature immense, però avete delle miniature, ad esempio, Zombicide, volete prendere gli zombie degli orchetti di Greenord? Ce li potete mettere tranquillamente perché il manuale vi dice gli zombie che tipo di caratteristiche hanno, quindi vi invito a crearvi le vostre storie e tutto, però ovviamente quello di cui parleremo oggi, e poi nel compendio dell'avventuriero ci farò un video a parte, oggi vi parlo del gioco di base, ed è, ve l'ho detto, un gioco da 2 a 5 giocatori, nel classico panorama high fantasy, quindi power fantasy, bello, come ai tempi di HeroQuest, dove un giocatore, o più, uno o più giocatori faranno, vestiranno i ruoli degli avventurieri, e un giocatore come in HeroQuest farà la parte del Dungeon Master, però la cosa bella è che il Dungeon Master su HeroQuest era una parte molto passiva, ovvero il Dungeon Master non faceva nient'altro che crearvi l'avventura seguendo il manuale, apri la porta, trovi questo, oppure mettendo anche le trappole, elementi scenografici, qui no, qui il Dungeon Master è un giocatore, anche in questa parte qui, il Signore Supremo, e dovrà proprio giocare e remare contro, perché avrà anche delle abilità, avrà delle carte che potrà utilizzare contro gli avventurieri, potrà scegliere lui quali mostri fare esponare in quel momento e come muoverli, qui alla fin fine è una partita in PvP dove gli eroi vanno a giocare contro il Dungeon Master, e il Dungeon Master non è solo quello che crea l'avventura, ma è proprio l'antagonista, quindi ipoteticamente è il quinto giocatore, o comunque il giocatore che va a fare la Nemesi degli eroi. Gioco molto bello, poi al solito valutazione alla fine, e niente, vi faccio vedere un po' come è all'interno. Di questo ne parleremo in un altro video a parte, per ora vi faccio vedere soltanto la missione del re dei nani. Unboxing! Questa è la scatola del gioco di base, Dungeon Saga, la missione del re dei nani, ricordo gioco della Mantic, è portata in Italia e tradotta e localizzato dall'AMS Edizioni, di cui trovate il link, primo link in descrizione. Questa parte qui ragazzi è un po' usurata qua giù, perché ripeto, il gioco l'ho comprato, usato da un ragazzo di Pisa, tra l'altro tenuto veramente benissimo, e le miniature la va già dipinte, quindi lo ringrazio ovviamente perché mi ha fatto anche una buona offerta, che non potevo rifiutare. Comunque, ora leviamo la copertina davanti, guardate che strafigata che è, ragazzi, scatola di base che sembra un libro, e tutte le espansioni fatte così le mettete accanto, sembrano i vecchi libri di un tempo, ma davvero dagli anni 20-30, e figata assurda, cioè rimandano anche un po' Harry Potter, quei vecchi tomi grossi di un tempo, e guardate bello, DS, ovviamente Dungeon Saga, e sembra una Collector Edition, sembra di aver comprato non un gioco normale, ma una Collector, qualche qualcosa, magari di Kickstarter, bellissimo, tra l'altro chiusura magnetica, quindi un'altra figata, e all'interno troviamo il regolamento di gioco in versione light, quindi praticamente due prime missioni, che sono due missioni tutorial, che mano a mano, è classico manuale, non mi leggere, usami, cioè nel senso giocami, mentre sei lì che muovi le miniature e tutto quanto, quindi questa qui è una piccola guida introduttiva, che vi fa vedere tutte le regole del gioco, con due missioni di partenza, che esolano poi dalle 10 missioni che sono dentro il libro delle missioni. E poi il regolamento, guardate belli anche i disegni, ricordano un po' anche i giochi della GV De Tempi d'Oro, dell'anni 80-90, e qui vediamo il regolamento, ragazzi, che poi vi vado a spiegare nel dettaglio, ma veramente... Penso che, guardate, forse tra tanti Dungeon Crawler che ho provato finora, è quello più facile in assoluto. Poi, con il compendio dell'avventuriero e altre cose, vengono introdotte tantissime regole in più, che lo trasformano in un GDR vero e proprio, però il gioco base, va sicuro, ha tre regole, forse due e mezzo. Poi, il libro delle missioni, con le 10 missioni che vi darà il re dei nani, che praticamente, vabbè, senza farvi spoiler, ma tanto è l'incipit che potete leggere qui davanti, vi darà una missione per andare a liberare le antiche critte del suo popolo, che ovviamente sono state infestate dai non morti, infatti i mostri del gioco base sono non morti, non morti troll, non morti combattenti, non morti arcieri, sono tutti quanti comunque non morti scheletri, e dovrete sconfiggere fra i vari boss lo scuro necromante che le ha riportati in vita. Quindi è andato a dissacrare il territorio, il suolo sacro di Elfi e Nani e voi sarete chiamati a combattere per riportare le antiche spoglie nella loro pace eterna ed è veramente, veramente fatto bene. La scheda del Lord Supremo, che ovviamente il Lord Supremo è colui che muove i mostri, quindi, ve l'ho detto, il giocatore in più, quello che vi fa ad antagonista, che vi fa vedere tutte le caratteristiche dei mostri, segnate qui, vedete, che poi le caratteristiche sono movimento, il movimento di quante caselle si muove, dadi del combattimento, quindi i dadi vari che tirano, come vedete, lo scheletro ha due valori, perché ha valore corpo a corpo e valore di tiro, e poi il valore di armatura, tutto qua. E poi, vabbè, ovviamente tutte le altre cose che vi fa vedere il tipo di mostro, nominativo e quant'altro. Tile di gioco, che ora poi vi faccio vedere con una prima missione senza spoilerarvi nulla al solito, solo per farvi vedere un pochino le regole, perché la storia è talmente bellina, fidatevi che non ve la fate spoilerar da nessuno, giocatele e basta. Dadi, che sono i dadi blu per gli eroi e i dadi bianchi invece per i mostri. Varie schede degli eroi, quindi queste qui sono le schede dei vostri personaggi e tra l'altro, come vi ho fatto vedere, ciascun personaggio ha in cima delle gemmine che sono i punti ferita, i punti vita, e poi sotto hanno le varie abilità, tutto quante, le caratteristiche. Schede dei mostri boss soprattutto, che troverete all'interno più necromante. Misuratore piccolo e misuratore lungo per la gittata, quindi gittata corta e gittata lunga, sia per gli incantesimi che per le armi da tiro. E poi alcune delle miniature, questo qui è un troll non morto, perché vi ripeto, nella scatola di base sono tutti non morti, che quel ragazzo che ce l'ha venduto aveva già pitturato. Quindi questa è una delle miniature, anche il dettaglio ragazzi è molto 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 bello, veramente rendano, rendano da paura. Per poi farvi vedere un eroe, non a caso vi mostro sempre il nano, perché è la mirazza preferita, infatti è l'eroe che sceglierò quando farò una partita con mia moglie. Veramente fatto bene, da paura, e anche questo qui tutte quante colorate. Per poi finire, con un nemico, vedete, uno scheletrino, che ditemi voi, se questo non è uscito da HeroQuest. È più piccolino come dimensione, cioè più proprio l'hanno fatto quello di HeroQuest, pareva allo scheletro di, non lo so, The Rock, grossissimo di Obono. Questo è uno scheletrino normale, abbastanza esile, però ditemi se ne è lo stesso. E poi ovviamente, questo sono un po' troppo sul cupo, le ricoloreremo tutte quante, però ecco quello che lo trasforma, veramente, nell'erede, disegnato di HeroQuest. Cioè, a parte essere belli pesanti, guardate Bellino, la classica libreria, con tutti i libri, alambicchi, cose strane messe lì, per poi passare a un portone. Guardate, bello, ci sono anche le porte all'interno, tra l'altro grosse, fatte veramente da paura, e poi cavolate, sceniche, come ad esempio, un trono dei nani e un barelotto, che poi al fine del gioco, come dire a questo, non servono a niente. Ovvio, qualche missione c'ha scritto, se c'è uno scrigno o se c'è un trono, c'è un'azione di ricerca e potete trovare un oggetto. Però, a parte quello, non servono a niente. Però ti calano nella parte da morire, perché è bellino vedere un dungeon disegnato su un foglio di carta, un A4, è bello vederlo con tutti gli elementi scenici. Ed è veramente uno spettacolo. Allora, qui abbiamo preso un'avventura introduttiva, anche per non spoilerarvi niente, per quanto, e mia moglie, abbiamo intenzione di portarvi qualche avventura sul canale. e avendoci anche, come detto già prima, il compendio dell'avventuriero, pensavamo anche di farci delle avventure nostre, delle missioni nostre con orchi, goblin, magari demoni o creature un po' strane. Anche, ripeto, per, mi garberebbe, ecco, farci una serie con vari video. Partendo dalla scheda del personaggio, vedete che tutti quanti i personaggi, ora qui vi ho preso il barbaro, vi potrei prendere anche il nano, tutti quanti i personaggi hanno 5 punti ferita, che sono queste gemmine che sono qua su in cima. Però, ad esempio, per prendervene 2 prettamente agli opposti, il guerriero ne ha 3 grigi e 2 rossi, mentre invece l'elfo ne ha 2 grigi e 3 rossi. Cosa vuol dire? Intanto, tutti i personaggi, come detto, hanno 5 punti ferita, poi ora ve li vado a descrivere, hanno una prodezza, che è un'abilità che può essere utilizzata solo una volta per partita. Quindi, è un'azione disumana, potentissima, però usatela bene perché è una singola carica. hanno movimento, semplicemente di quanti tiles si muovono, dadi da combattimento, quanti dadi tirano appunto per combattere, lui ne tira 5, e un valore di armatura. Girando dalla parte opposta, l'eroe in versione leggendaria, con tutte quante le abilità, le cose che sblocca, ma questa per ora non ci interessa e magari sarà sicuramente materiale per un prossimo video. i punti ferita, fino a che subite un punto ferita, prendete questi cursori, che vedete qui, e li mettete semplicemente sopra alle gemmine, che vedete sulla scheda. Ce ne mettete un secondo, prendendo sempre il barbaro come esempio, ogni volta che subirete una ferita, ce ne mettete un terzo, quando tutti quelli grigi sono occupati, e rimangono soltanto quelli rossi, il personaggio è incapacitato, o indebolito. Può continuare a giocare normalmente, come sempre, a fare tutte le azioni che farebbe, con la differenza che, quando farà delle azioni di combattimento, tirerà un dado in meno, perché praticamente è sfinito, è indebolito, sta sanguinando, e quindi, fino a che non verrà curato in qualche maniera, e quindi non rilibererà, rendendolo disponibile, almeno un cubetto grigio, fino a che gli restano soltanto cubetti rossi, sarà incapacitato, ovviamente quando dovesse riempirli tutti quanti, il personaggio andrà a terra, o sarà morto, quello comunque a seconda dell'avventura, quello ve lo dirà sempre il Dungeon Master, e ciascun eroe, che in questo caso il Barbaro è questo qui, Orlaf, ciascun eroe nel gioco, proprio come nel buon vecchio Heroquest, ha un movimento e un'azione, quindi voi potete fare, o movimento, o azione, oppure tutte e due, potete fare anche il movimento, e subito dopo l'azione, però il movimento è unico, non è che potete fare due movimenti, o nel caso non vi muoviate, non è che potete fare due azioni di combattimento, no, le azioni di movimento, sono semplici, vedete, sono divisi in quadrettini, quindi nel caso di Orlaf, che ha un movimento di sette, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, muovendosi lungo le caselle, quindi il movimento è la cosa più facile del mondo, però questo gioco nel movimento, ha introdotto una regola, secondo me molto carina, che mi fa ripensare un po' a Space Hulk, ovvero la linea di vista, quando voi muovete un eroe, poi vi faccio vedere per i mostri invece come funziona, quando voi muovete un eroe, come mossa gratuita, non vi costa niente, del suo movimento, dovrete sempre decidere il lato dove sta guardando, quindi il fronte ovviamente dell'eroe, ve lo faccio verso la telecamera, è questo qui, quando ve lo andate a muovere, magari dite, mi muovo di sette, ma vi potete anche muovere di tre, non è che vi dovete fare tutto il movimento, potete muovere sia ortogonalmente, che in diagonale, in questo gioco si può muovere, o anche ingaggiare in diagonale, quindi anche in diagonale siete in contatto con un mostro, l'unica differenza è che vi potete muovere in diagonale, soltanto se una casella davanti, e una casella accanto ce l'avete libere, questo cosa vuol dire, che se qui avete un mostro, o un elemento scenico, e qui avete un altro mostro, che quindi vi bloccano le due caselle davanti e al lato, non è che per il fatto che potete muovere in diagonale, potete andare qui, questo non lo potete fare, se siete bloccati, poi come regola di movimento, vi dicevo, l'eroe può girarsi, per avere una linea di vista precisa, quindi se qui ci fosse un mostro, vi faccio un esempio, l'eroe potrebbe dire, io mi muovo fino a qui, e come ultima mossa mi giro di qua, ricordatevi che questa mossa, la potete fare come vi pare, anche da qui, vi potete girare completamente all'indietro, la potete fare solo una volta per movimento, perché ciascun eroe, ma anche mostri di stessa cosa, hanno una linea di visuale, e la linea di visuale è sempre il davanti, e il lato, ovviamente anche le diagonali, quindi la sua linea di vista, dove può attaccare senza malus, è questa, questo, questo, questo e questo, le caselle invece che ha dietro, sono il lato oscuro, dove non vede, ovviamente se è attaccato, si potrà difendere, però un eroe che venga attaccato alle spalle, quindi da un mostro che gli arriva alle spalle, tirerà un dado in meno in difesa, stessa cosa, quando l'eroe andrà ad attaccare un mostro di spalle, il mostro tirerà un dado in meno in difesa, quindi ricordatevi sempre, che tirate un dado in meno in difesa, quando l'eroe viene preso alle spalle, o quando come vi ho fatto vedere prima, gli rimangono sulla scheda soltanto gemmine rosse, quindi praticamente è indebolito, e quasi incapacitato, e poi si subisce anche meno un dado, nel caso di inferiorità numerica, quindi se i mostri che vanno ad attaccare il personaggio, e li sono in contatto di base, se sono in due, lui subirà un meno uno al tiro di dado, perché ovviamente loro sono in superiorità numerica, stessa cosa se invece fossero gli eroi, in contatto di base con lo stesso mostro, sempre per la regola della superiorità, questa volta numerica, il mostro avrà meno uno alla difesa, e queste sono le regole di movimento, quindi ricordatevi che quando vi muovete, dovete sempre girare il vostro personaggio, dal lato dove volete che guardi, soprattutto nel caso, colgo l'occasione, del personaggio del gioco arciere, la cosa più importante per il personaggio, per l'elfo e il mago, state attenti sempre a dove guardate, perché l'arciere ovviamente non può tirare, senza linea di visuale, e ricordatevi quando si tirano le frecce, in questo gioco dovete prendere il misuratore lungo, perché l'elfo e anche i non morti con l'arco, hanno l'arco lungo, quindi la cittata è lunga, se volete sapere, se arrivate a colpire qualcuno, come in Warhammer, infatti questa cosa è strana, vederla in un board game, beh, misurare sinceramente col metrino, però ci sta, andate a misurare dall'elfo al nemico, e vedete se è sotto ovviamente questo cursore, arrivate ad attaccarlo, purtroppo l'attacco ve lo faccio vedere a breve, mentre il mago stessa cosa, incantesimi agitata lunga, e incantesimi invece agitata corta, poi a volte il mago ha anche degli incantesimi, da corpo a corpo, quindi per forza di cose, il nemico vi dovrà essere in contatto, quindi linea di visuale, deve essere sempre precisa e perfetta, a parte che l'incantesimo del mago, magari non vi dica, lancia un incantesimo senza linea di visuale, perché a volte capitano quegli incantesimi lì, e quindi voi pescando la carta incantesimo, dai vari mazzi che vi faccio vedere alla fine, andate sempre a leggere cosa c'è scritto sopra, queste sono le regole di movimento, cambia la regola di movimento, soltanto per i mostri grandi, che sono questi ovviamente, che hanno la base non di uno, ma di quattro, quelli più grandi, che loro possono muoversi solo a diritto, quindi se lui ci avesse movimento cinque, non potrebbe fare che ne so, uno, due, poi si sposta di qua, o cambiare stanza, i mostri si muovono solo a diritto, quindi nella parte dove stanno guardando, in linea di visuale, e poi si devono fermare, che ne so, facciamo conto di fa, uno ha fatto un movimento, e poi per ogni volta che si voltano di 90 gradi, sprecano un altro punto di movimento, quindi se il mostro ipoteticamente, volesse andare di qua, non potrebbe fare uno, due, e passare nella stanza di là, ma dovrebbe fare uno, perché ripeto, si muovono solo a diritto, due, e poi andare dalla parte opposta, quindi questo, è la regola solo per i mostri grandi, i mostri piccoli invece, si muovono tranquillamente come gli eroi, poi abbiamo questi, segnalini qui, che vanno affidati ai personaggi, che sono semplicemente, dei piccoli token, che ci ricordano quando l'eroe è stato utilizzato, ha finito il turno, potete anche non usarli, però facciamo conto che questo, è il barbaro, quando il barbaro, avrà fatto le sue azioni, e vi ricordo le azioni sono, un movimento, e un'azione, quindi un attacco lo girerà dalla parte nero, così da ricordarsi che lui ha già fatto il turno, potete anche non utilizzarli, ci sono gli elementi scenici, che potrebbero essere, vi ho detto, scrigni, potrebbero essere troni, potrebbero essere la stregliere per le armi, che nel 90% dei casi, sono solo scenici, ad esempio, uno scrigno messo, ad esempio, se qui ci fosse un elfo, sulla linea di visuale, dell'elfo, che tira a questo, ci fosse, un barilotto, potrebbe dargli problemi al tiro, e quindi riceverà, un malus al tiro, come detto prima, tirerà, meno un dado, per il fatto che appunto, c'è un qualcosa, che le dà noia davanti al tiro, se invece il barilotto, l'elemento scenico, fosse, in contatto, con la miniatura nemica, questo malus non l'avrà, altra cosa, se ovviamente, lui dovesse tirare, a un nemico, e davanti, sulla linea di visuale, ce ne fosse, un altro, non potrebbe tirare, a quello successivo, però con elementi scenici, lo può ancora fare, ricevendo un malus, elementi scenici, come tipo, i portoni, questo qui, dovete vedere, cosa vi dice l'avventura, potrebbe essere un portone, che il vostro eroe, ci arriva davanti, e con l'azione lo apre, rivelando, la nuova parte di dungeon, che verrà ovviamente scoperta, come nel bombecchio, iraquest, ma nel caso, il portone fosse chiuso, la missione vi darà sempre, un token da metterci accanto, che vedete da, un valore di armatura, e dei dadi, ok, quindi come mostri, come mostri, o come gli avventurieri, che vedete sulla scheda, del dungeon master, chiunque ha sempre, un movimento, un'azione, quantità di tira per il combattimento, e una difesa, e lo stesso hanno, anche gli elementi scenografici, tipo le porte, che ovviamente, se ci hanno questa cosa qui accanto, vuol dire che non basterà, aprirla, ma andrà sfondata, quindi questo cosa vuol dire, la porta, tira tre dadi, che sono questi qua, ed ha un valore di armatura, di tre, i valori di armatura, vanno superati, per dare un colpo, ad esempio, il nostro barbaro, essendo praticamente a petto nudo, sicuramente meno armato, meno corazzato del nano, ha un valore di armatura di due, quindi vuol dire, che tutti i tiri, che faranno tre o più, l'avranno colpito, se il tiro fa uguale, il valore del dado da sei, uguale, o meno dell'armatura, di quello che è andata ad attaccare, del difensore, il colpo sarà stato assorbito dall'armatura, quindi, questa porta, che ha un valore, bella resistente, sarà tipo un portone, in quercia spese e tutto, per andarla a distruggere, dovete superare, un tiro di armatura, con un valore di tre, quindi passeranno soltanto i colpi, che faranno quattro o più, il nostro barbaro, vi ricordate come vi ho detto all'inizio, tira, cinque dadi, che sono questi qui, ricordatevi sempre, tirate tutti insieme, i dadi, dei personaggi, dell'eroe, e i dadi del, mostro, che sono sempre bianchi, o dell'elemento scenografico da rompe, quindi, cinque per il barbaro, che al momento non ha malus, perché non è ferito, non è incapacitato, e tre per la porta, quindi voi li prendete tutti insieme, così, e li andate a tirare, li andate a tirare, e vedete i risultati che sono usciti, ora, scusate che stavano sei, i risultati in questo gioco vanno abbinati, ed è la cosa secondo me più bellina, che gli è riuscita meglio, perché, come si fa a vedere quante ferite ho fatte al portone, a parte che tiro più dadi, della resistenza del portone, dei dadi, che tira lui, quindi comunque passeranno sicuramente delle ferite automatiche, però, dovete sempre abbinare i dadi, più alto con più alto, secondo più alto col secondo più alto, terzo più alto col terzo più alto, ovvero, qual è il più alto che ha fatto il barbaro? Ha due sei, quindi vabbè, prende un sei, ovviamente, perché è uno dei più alti, qual è il più alto che ha fatto il nemico? Il cinque, quindi il cinque lo abbino al sei, e ha vinto, il sei è più alto del cinque, secondo risultato più alto, per il barbaro è ancora un sei, mentre invece per la porta, vabbè, il mostro, è un tre, quindi lo vado ad abbinare, e quindi il sei batte il tre, il terzo più alto qual è? Per il barbaro è un quattro, per il portone è un due, non li potete abbinare come volete, dovete sempre abbinare, primo più alto con primo più alto, secondo più alto, come vi ho detto, quindi già questi tre del barbaro sono più alti, nel caso invece il portone su questo avesse fatto un sei come più alto, sei e sei si annullavano, quindi bloccava la ferita, però ricordatevi che il gioco allo stesso tempo mi diceva, sì, però ricordati che ti serve un quattro più per romper la porta, quindi questi due dadi che hanno fatto, uno e tre, non hanno fatto quattro più, quindi automaticamente sono scartati, però questi tre sono più alti di quelli che ha fatto il nemico, quindi il portone ha subito tre ferite, andiamo a vedere sull'avventura quanti punti feriti ha il portone, se ne ha tre è distrutto e lo rimuovete, se ne ha meno di tre invece il portone rimane, stessa cosa ragazzi, identica spiccicata per i mostri, andremo sempre a vedere i punti ferita che avranno i mostri, e stessa regola, tiriamo tanti dadi, quanti sono i dadi di attacco di tutte e due, quindi nel caso dello scheletro, lo scheletro combattente, ovvero lo scheletro guerriero, tira due dadi di combattimento, quindi il barbaro sempre ne tirerà cinque, lo scheletro ne tirerà due, e passano le ferite allo scheletro guerriero, tutti i risultati col tre o più, stessa cosa, si guarda le ferite, quello che succede, e a seconda dei punti ferita che ha lo scheletrino, verrà distrutto e verrà ucciso, di solito uno scheletro basta un punto ferita per ferirlo, non lo ammazza, con due punti ferita lo distruggerete, anche qui ci sono delle regole particolari, a seconda della missione, che di partenza vengono messi dei mucchi d'ossa, in giro per la mappa, casualmente, oppure proprio il dungeon master che li sceglie, che vi ricordo che il dungeon master è un altro giocatore a tutti gli effetti, a differenza di hero quest, e in più quando uno scheletro verrà polverizzato, quindi quando subirà, non mi ricordo esattamente se tre o quattro punti ferita, ma tanto il manuale è chiarissimo, quando subirà più di due punti ferita, tre o quattro, in una botta sola, non solo l'avete distrutto, ma dovrete mettere sotto di lui un mucchietto di ossa, perché le fasi, le azioni dei giocatori, come vi ho detto, sono sempre quella di muoversi, e attaccare, più ovviamente azioni di ricerca, anche l'azione di ricerca c'è, però quello guardate sempre il manuale delle avventure, perché se non c'è una ricerca collegata ad un oggetto, magari qui c'è un barilotto, e il gioco, la mappa stessa, non vi dice che in questo barilotto c'è un'azione di ricerca, è inutile anche andare lì a provare a fare una ricerca, una cosa del genere, quindi questo è un gioco incentrato al 90% sui combattimenti, mentre invece il Lord Supremo, quando è il suo turno, è il suo turno è quando hanno giocato tutti gli avventurieri, pari pari a HeroQuest, quindi quando tutti i giocatori hanno fatto le proprie mosse, tocca a lui, e lui di solito, ma ripeto, di solito a volte a seconda della missione, o delle carte che ha in mano, anche di più, lui magari sul tavolo avrà in quel momento lì, due o tre mostri, mettiamo caso ne abbia tre, e dovrà muoverli tutti quanti, la sequenza la decide lui, il modo lo decide lui, quindi potrebbe circondare il barbaro per ammazzarlo, potrebbe magari dividere il mago dal gruppo, l'unica regola nel movimento che non vi ho detto prima, quando entrate in linea di visuale con un mostro, o contro un eroe, automaticamente vi dovete fermare, quindi vi ricordatevi ho detto, la linea di visuale è quella in contatto di base, sul fronte e sui lati, quindi se il guerriero fa uno, due, tre e quattro, non va in contatto con la linea di visuale del mostro, quindi non succede niente, ma se un guerriero dovesse fare un passo in diagonale, e andare anche qui, un eroe, automaticamente entra nel campo del mostro, ed è ingaggiato, quindi lo deve affrontare in combattimento, o può anche decidere di dire, no io non lo voglio combattere, voglio andare oltre, però andando oltre, per ogni casella che proverete a superare, sarete sempre nel suo range d'attacco, quindi sul fronte e sui lati, dovrete subire un colpo, perché è il classico colpo di opportunità, insomma, che il mostro vi fa scappare, però prova comunque ad accopparvi, e questa è una parte del movimento, e il dungeon master ve le deve muovere, i mostri, per farvele arrivare in contatto, come nel buon hero quest, li deve muovere come preferisce, quindi qui farà il suo movimento, farà i suoi attacchi, farà tutto quello che deve fare, o se no, può fare oltre a queste azioni qui, che sarebbero quella appunto di muovere, e compiere azioni, potrebbe se no, o giocare una carta del Lord Supremo, che sono queste, è un mazzo che viene scelto a inizio avventura, a seconda dell'avventura, potrebbe essere composto da 10 carte, 20 carte, quello sempre ve lo dice il manuale, e all'inizio del suo turno, il Lord Supremo ne pesca 3, ok? Quest'arte vanno messe da parte, ne pesca 3, le gira, e guarda cosa c'è scritto dietro, lui potrà giocarne una di queste, una e una soltanto, anche perché a fine del turno, una la gioca, ovviamente una volta giocata è scartata, e successivamente, quando risarà al turno dei giocatori, finito il turno dei giocatori, risarà al turno suo, ne potrà andare a pescare un'altra, e sono carte che gli danno vantaggi a lui, o magari svantaggi al gruppo degli avventurieri, o se no, può decidere di, invece di muovere i morti, che ha qui, dice ok, io i miei morti non li muovo, comunque i miei nemici, può decidere di animare i morti, che è un'azione che lui può fare, solo se ha la carta incantesimo, quindi se ha pescato la carta al Lord Supremo, può utilizzarla per animare i morti, e magari la regola del gioco gli dice, ok, leva questo segnalino qui, e mettici un non morto al cere, e lui quindi metterà quel non morto al cere, che una volta sponato, non si potrà muovere, avrà finito il suo turno, però ovviamente potrà fare le azioni dal turno successivo, ragazzi, ovviamente ci sono anche carte abilità, che nel manuale, il gioco non ve le chiede, perché sono soltanto per personaggi particolarmente forti, quindi abilità dei personaggi, carte incantesimo, per tutti quanti i castanti del gioco, quindi il vostro mago, ma anche i boss, che trovate in giro, che possono castare, e poi ovviamente non poteva mancare, l'equipaggiamento, le carte equipaggiamento, che potrete trovare direttamente nelle vostre missioni, insomma, perché anche qui c'è una componente di loot, tesoro, sennò sarebbe solo mero combattimento, e tantissime altre regole, che poi dopo vengono aggiunte, sia nel manuale base, che nel compendio dell'avventuriere, come vi ho detto, tenete sempre a portata di tiro, questi qui che sono i misuratori per le magie, e per il tiro con l'arco, perché sono la cosa in assoluto più importante del gioco, ragazzi, ovviamente ci sarebbero altre cose da dirvi, però vi assicuro che, bene o male, come in un'infarinatura di base, le regole principali sono tutte qui, e ovviamente il dungeon va costruito, a seconda di come vi dice direttamente, il manuale di gioco, il manuale dell'avventura, quindi voi seguite sempre quello, e non avete problemi, però contate una cosa, in questo gioco è importante, se non fate l'errore, in HeroQuest il Dungeon Master non vi gioca contro, è qualcuno che vi crea l'avventura, qui invece il Dungeon Master è proprio qualcuno che vi rema contro, quindi sapete direttamente che quello che dall'altra parte del tavolo vi sta remando contro, è il vostro antagonista, la vostra Nemesi, e voi dovete proprio sconfiggerlo, quindi cercate di giocarlo nella miglior maniera possibile. Quindi ragazzi, in conclusione, questo era il gioco base di Dungeon Saga, la missione del re dei nani, è un gioco che come regole mi è piaciuto tantissimo, ora magari l'unica cosa è il sistema di abbinamento dado e dado, dado blu e dado bianco, mi piace, vi dico la verità, perché non è tanto il fatto che mi possa piacere prettamente come meccanico o no, ma è funzionale, quindi ci si ricorda facilmente ed è molto veloce fare questo abbinamento, però io l'avrei fatto più stile HeroQuest, lo so che magari non potevano, se no era una scopiazzatura, hanno cercato di fare qualcosa anche loro, giustamente la Mantic, però magari aver fatto qualcosa, più sullo stile, se esce la spada è un colpito, se esce lo scudo è un parato, però va bene anche così, tanto è veloce, fai in tre sionde li vai a abbinare i dadi, quindi se rallenta, rallenta veramente di poco, e devo dire è un gran bel gioco, e detto sinceramente, fra tutti i dungeon crawler usciti finora, è in assoluto il preferito mio di mia moglie, ma occhio, non perché sia il più bello, perché magari come componentistica è tutto, chi ha una cosa, chi ne ha un'altra, quindi il più bello non è, perché Descent ha delle miniature, che a me piacciono di più, rispetto a queste, Sword and Sorcery invece magari ha le meccaniche proprio, che mi garbano di più rispetto a questo, però io l'ho sempre detto, e lo ammetto, quello che cerco in un dungeon crawler, è HeroQuest, io voglio un gioco, perché tutti si ispirano ad HeroQuest, però chi più chi meno ci riesce, ovviamente qualcuno fa anche meglio, è di HeroQuest per l'amor di Dio, però loro, secondo me ci sono riusciti veramente, e me lo sento di consigliarvelo, come ve l'ha consigliato, qualsiasi altro recensore, come il ragazzo che me l'ha venduto, se cercate, come me siete degli affezionati old school, del vecchio, e il migliore di tutti, il pari di tutti i giochi da tavolo, HeroQuest, lo avete trovato, fidatevi ragazzi, Dungeon Saga è HeroQuest, è il successore spirituale di HeroQuest, e se cercate HeroQuest, l'avete trovato in un gioco comunque, evoluto come meccaniche e tutto, prossimamente vi faremo vedere anche il compendio dell'avventuriero, che è questo librone qua giù, cioè, immenso, della bellezza di, se non erro, 64 pagine, cioè, immenso, e che, ragazzi, magia delle magie, ve lo trasforma in un GDR, non sto scherzando, ve lo trasforma in Dungeons & Dragons, non solo inserisce la modalità campagna, ma inserisce varie carte, varie altre cose, e vi dice, ci avete miniature fantasy in casa, della GV di confrontazione, quello che vi pare, mettetele in campo, il 28-35 mm, e questo manuale vi fa giocare con tutto quello che avete in casa, cioè, quindi l'espansione ve le fate da soli, praticamente, ed è veramente bellissimo, se cercate HeroQuest, l'avete trovato, e se gli devo dare un voto, gli do un 9,5 su 10, ve lo giuro, non gli ho dato la perfezione, solo per questo fatto qui, ma è una cosa mia, e non per forza che sia brutta, anzi, è bello e funzionale, però io avrei preferito in più tirare il dado, con i classici simbolini sopra, solo per una cavolata, comunque, 9,5 su 10, meritatissimo, e trovate il primo link in descrizione, dalle MS Edizioni, compratelo direttamente da loro, perché hanno tutte quante le espansioni, e poi sono coloro che l'hanno portato in Italia, localizzandolo, ragazzi, questo veramente, e anche come miniature, lo scheletrino con la falce, questo è oro, dateci un'occhiata, e poi fatemi sapere cosa ne pensate, faremo anche gameplay, è in futuro, quindi preparatevi a vedere un bel po' di video su questo gioco, ciao ragazzi, alla prossima!